Allora, andiamo su P, no mi sembra che siamo messi bene per quanto riguarda, sì, sì sì si è messi bene Abbiamo un bel po' di oggetti, eh Sono senza cappello, eh, vabbè No, cosa fa, cosa fa? Il tempo del docor si avvicina a un compagno per agganciarlo e usa l'opzione disponibile per interagirci Parla Abbiamo un po' di acqua e un po' di roba, per quanto, 10-12 persone? Quando ero nella nazione Non voglio sentire cosa hai fatto nella nazione, signor Pearson Ci siamo scopriati nel mare per 50 giorni E tu, infatti, urbavi When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short We'll survive, we always have If needs be, we can eat you, you're the fettest I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing Lenny's more into book learning than hunting Bill's a fool Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they've found enough of this We'll go find something Come on, Arthur Wait a second Hold on Here You're gonna need something to eat out there Assorted salted awful Starving will be preferable Come on, let's go You can't go, Hunter, look at your hand I can't stay here listening to you two Look at this game in those hills, I'll find it And you can kill it You need to rest, Charles You think this is rest? Come along Here, you take this I can't use it and you'll have to Oh, you're joking Use a gun And we'll scare off every animal for miles around You're never too old to learn I imagine It's true So 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 22 frecce Ti Premuto Premi I'll be at the end When I'm going to Calcio Vicino a un compagno Ok 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 Sure hope I can Never really got the hang of it You'll be fine So You reckon we're going to find something to kill that ain't no Driscoll? Huh There's meat up here for sure Pearson doesn't know what he's talking about Now the weather's eased off a bit They'll be needing to feed We'll head up this way Find some higher ground Been a wild few days, all right That ride north from Blackwater Getting stuck in the storm Going out for child That thing with the old Driscolls You've had a lot put on you I wish I could have done more I didn't mean it like that Just A lot to think back on I still don't really know what happened on that boat Me neither Well Javier told me a bit But This show wasn't good Sempre un bel po' di freddo eh Come un po' di neve Ovviamente Ce lo giocheremo come al solito Con calma Senza fretta Anche perché qua Chissà se raggiungerò i 200 episodi Boh In ogni caso Ce li giocheremo tutti Strano All right There's some patches of grass here This is good Come on Let's try this way Keep your eyes peeled for movement The wind's died down too That's good No wind at all is bad But if it's too strong They won't move Now shh Stay quiet Hey Stop here a second I see something Whoa Vede qualcosa Vede qualcosa Ah l'abbiamo lasciato sul cavallo Aspetta Eh già Ehm Si era così Allora poi Dov'è l'arco No No Aspetta Devo ancora capire bene Questa roba Aspetta Allora Eccolo qua Allora Se premi destra Per scorrere da tipi di munizioni modificate Per quest'arma Beh in questo caso Ne ha solo una Normali Eh Eh oh Caccia un cervo L'accovaccio deve fare meno rumore Se l'ho scoperto da solo Puoi usare l'occhio d'aquila Ah l'occhio d'aquila Per evidenziare tracce di animali E altri indizi Premi l'E3 R3 Per attivare l'occhio d'aquila Ah ecco Versa te Premi R1 Per seguire le tracce Ah si si evidenziano appena appena Quindi se seguire le tracce Sono evidenzate sul terreno E lo sterano Finchè la barra dell'angolo In basso a destra Non si svuoterà Animale sconosciuto Capito Vabbè quando si svuota E si ricarica da solo Vabbè che è Va di qua Attiva l'occhio d'aquila inizia a seguire le tracce Per evidenziarle di nuovo Così Ah ecco Perché il tempo è rallentato Ok Quando l'occhio d'aquila viene mostrato anche il tuo odore Che si propaga in direzione del vento Gli animali fuggono se fiutano il tuo Vabbè Corre mentre usi l'occhio d'aquila lo disattiverà Il mio odore Dov'è il mio odore No volevo vedere ma Ah si si Ho visto appena 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 si vede Forse per adesso siamo puliti Forse Non lo so Eh si Diciamo che si Rimane attivo per un po' sta cosa Poi basta Dove Ah eccolo Ok Più a lungo otterrai la corda tesa Più danni provocherai la freccia Scarichi troppo il colpo Perderai la mira Ok Inzega Faccio un altro C'era Vedissimo Ok Aspetta Scegli chi ha Per attirare l'attenzione Di un animale Conto Qui stai puntando l'arma Prima di scappare Alza la testa Dalla la possibilità Di ucciderlo Più facilmente Beh se lo vedo Però l'animale Allora prima Ecco qua Ok ho recuperato La freccia Però non posso raccogliere Nulla No Aspetta vediamo Ah guarda là Aspetta là c'è un'altra traccia Ok è andato È andato di qua Sì Ok Eccoli là Vabbè qua si vedono bene Voglio dire Merda Quando Aspetta E non ho fatto in tempo Lì È morto Mi sa No 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 È ferito Ok Ok Sì Mi avvicinerei ma Posso andare qui Sì sì ok Pensavo che la corrente Era forte Invece Questo l'avevo ferito Bella sta meccanica E Ah mi ha Frecce Vabbè Teni premuto Per raccogliere La cassa del cervo Eh ma quella di prima Madonna Il compagno Tiene traccia Di tutte le tue scoperte Ci si accida La selezione Progresso In menù di pausa Tieni premuto Per visualizzare I dettagli Ah devo tenere premuto Ok Prima forse non l'avevo tenuto Premuto Va bene Allora Cervo dalla coda bianca C'è pure il Bestiario Praticamente Il cervo dalla coda bianca Vive in diversi ambienti Di tutti gli stati Ma è comune Nelle foreste Del New Hanover Del Le Moyne E del West Elizabeth La sua dieta di erbibolo Include erba Noci Funghi Ramosceglie Frutta Poiché è facile Spaventarsi E fuggire Poiché è facile Spaventarsi E fuggire Per avere Maggiore probabilità Di successo Durante la caccia O che viene tenersi A distanza Per questo motivo Le armi migliori Per dargli la caccia Sono quelle a distanza Come fucile A canna rigata E arco Con frecce avvelenate La pelle può essere usata Per creare oggetti Mentre la sua carne La selvaggina Può essere consumata Come cibo Utilizzabile Nella ricetta Del cervo L'origano Ci sono anche Le ricette Va Eccolo qua Uno su dodici Ok Ah ecco qua Compendio Animali Eccopaggiamento Pesci Pande Va bene 178 tipi di animali Adversi Ammazza Ah 12 pagine Ok Ok Va bene Ok Premi su Per fischiare E chiamare il cavallo Il tuo cavallo Risponde ai richiami Finché sei abbastanza vicino Continua Continua a legare Con il tuo cavallo Per incrementare la portata Del tuo fischio Un po' come in Zelda Anche in Zelda Bed of the Wild Dovevi essere nelle vicinanze Per chiamare il cavallo Eccolo qua Avvicinati al tuo cavallo O da dietro E beh come Ok Tieni premuto Boh Monta Ok Vai da Charles Ok Vabbè È rimasta la macchia Il cervo l'ha preso Ok Il cervo L'altro cervo L'ha preso lui Ok Puoi consegnare Cracasse degli animali A Pearson A Macellaio In questo modo Contribuire A fornire la banda Ha Ho Vabbè 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 e tutto quello che aveva quindi cosa facciamo con lei? dopo che veniamo fuori da qui e siamo tornati sui piedi vediamo lei potrebbe avere una famiglia in qualche modo chi lo sa? magari lei avrebbe avuto con il O'Driscoll per noi ha ha sai chi mi ha avuto in quella combina è forte ma questo rende più utile magari possiamo arrivare a loro prima di arrivare a noi cosa è con il O'Driscoll? non hai avuto con loro? credo non abbiamo mai avuto con loro i ultimi sei mesi credo perchè hanno avuto in questo modo no ho ho sentito molto parlare beh abbiamo avuto scopini con loro per anni una grande gamba i ragazzi loro leader Combe e le ducce e non in una buona forma proprio questo e hanno capito mh 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 orso e quindi lo sorpassiamo e basta dove è andato? ah eccolo la se ne sta andando d'orso ha spaventato il tuo cavallo quando c'è un predatore vicino al tuo caldo si agita ti viene premuto l3 per calmarlo ah pensa a te ecco si rafforziamo il legame no 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 Certo, potrei farlo con un'altra gamba, ma il duccio. Sì, il duccio è diverso. Oh, sì. Il duccio è sicuramente diverso. Il mi tratta di bene, la maggior parte di voi. E per un figlio con un padre bambino e un madre indiana, questo non è normalmente il caso. Beh, abbiamo bisogno di te ora, o non è sempre. Bene. E quanto tempo hai già con questi bambini? Mi sono da vent'anni? Sì, mi ha insegnato di leggere. John, anche. Mi ha insegnato di fare altre cose, lui e Hosea. Sì, sicuramente. Duccio mi salvare. Ci ha salvato la maggior parte dei nostri. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Mi guarda la neve che si accura addosso. All right. We'll do for now. I appreciate you letting me take time with you the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but... He loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the count once. Fuck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Ah, sono tornati dal macellaio, eh. E che cavallo. No. Aspetta. Un attimo, devo legarlo. Scusa, eh. Perché non mi fa legare? Ok. Eh, devo essere... Eh, devo essere un po' più lontano. Aspetta, aspetta. Così. Vediamo. Ecco. Ok. Ok, poi andiamo al cervo. Giungi Pearson. E' un po' più lontano. Che a show in a fiction. No, è non. Now, shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one. You dumped on the floor there. Hmm, mi premuto per scoiare. Hmm. Ah, beh, vieni via in un attimo. Eh, che roba. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Yeah. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck. Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, run, run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Fuck need it. It's been a tough few days. Hai sbloccato le sfide alcuni giorni dopo. La sfide da maestro e da caccia con tutto il registo per avere maggiori informazioni. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Yeah, well, I think it's been a bad thing. I thought you was reading him his last riots. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respects, Mr. Morgan. Mind a way, Reverend. You're still here then? Oh, yeah. Yeah. Then you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur. I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look out. I was always ugly Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. Ah, I see you now. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Come on. What do you want from me, Jose? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Jose. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just... I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch, is he? Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Let's go. Schmemetto che mo... Non andrà bene, non so perché... Recebi scodati, uno di tre. Maestro della caccia. Ah, sì, poi me ne scoglio l'altro. Andiamo. Hmm. Grazie a tutti, secondo la informazione che ci ha dato da O'Driscoll, il treno sarà arrivato al nord, da Big Valley. Siamo a prendere la scuola dopo che si tratta la fronte verso i Grizzlies. C'è un posto che ci dovrebbe dare una buona vantaggio. Charles, guardatevi per alcuni outrideri. Come è la mano, per esempio? Sì, bene. Bene, io prendo il treno e l'engineer, poi prendere il punto. Lenny e Javier, voi prendere i fronti, affrontatevi con alcuni guardi. Arthur e Micah, vieni per l'altra, è quello che stiamo dopo, il senso il treno di Cornwall. Tu e io, Morgan Bray, avete un problema con questo? Non se ti prendi la sua cabeça per una volta. Ti preoccupi di te stesso, no? C'è abbastanza! Dopo che Bill si tratta la scuola, ci dovremo andare più veloce. C'è tutti chiaro di quello che stanno facendo? Sì, Crystal. Sì, boss. Bene, ora, vieni! Let's ride! Out of the snow, finally. Sì, senti bene, non è? Ma abbiamo bisogno di fare questo faccio veloce. Ora è stagione, prima di chiunque si arriva qui dopo noi. Oh, guardatevi, ragazzi. Sì? Questo è quello che chiamano una squadra. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier e Seguela, e cosa sui l'unico Lenny qui? Sempre il primo che sull'attacco. C'è un'attacco che siamo tornati a loro, Dutch. C'è sicuro che sei pronto per questo, figlio? C'è sicuro che sono pronto. Just resta calma. Sassate i nostri occhi corti. Questo è per tutti voi. Non esercizi. Non ancora. Quindi facciamo questo, poi andiamo a Bacchia, per ricordare. C'è quanto volte ti senti la stessa domanda, Micah? Idiot. C'è un po' di freddo di acqua di sito per molto lungo E' un po' di freddo di andare là ora Il paese sarebbe sforzato con Pinkertons Siamo tornando quando io dico che torniamo tornando E' la fine di questo Il monello è sicuro Ti dovete confiere a me E se gli O'Driscolls sono giusti Ci saranno un sacco di fondamentali su questo treno Buon money Una volta che lavoriamo a farlo Ok, vai da bella Ma a piedi o col cavallo? Domanda Forse è meglio col cavallo, va Aspetta Vieni qua Andiamo, va Allora, Bill, dove sei? Eccolo qua Aspetta, magari devo proseguire a piedi qui Me lo indica lì Ah, eccolo lì Ok Lo srotoliamo Collega il cavo al detonatore Beh, è il classico Si Detonatore Per dinamite Dell'epoca Ecco qua Ecco qua Ti ho premuto per collegare il cavo Va bene Va bene Riprendo il cavallo Aspetta Aspetta Dove è che lo sa Eto da qui Ho sceso Ok Temuto l'E1 Ok Ruota degli oggetti Vestiti Questi sono vestiti Ok Ah, maschere e bandane Ok Indossare Travestimento Sontenri Come Sontenri E Sono Ecco Voi 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 non va salta sul treno ecco i primi problemi sono qua tira su aspetta ok aspetta non c'è qualcuno no ma posso ecco quello che volevo sapere se posso ucciderli la distanza ecco va bene ti devo sparare cioè con il coltello non lo so sennò li devo sparare per forza bravolo ok dai file un po' la merda no non l'ho preso si è bloccato lì quello lì ok mentre mi dicono nelle due premiare tre per attivare il dead eye così facendo rallentare il tempo si ma aspetta guardalo lì ok ma si ma si ma si vittorio c'è di fulgare le tue bar va bene va bene ma aspetta ok Qualcun altro c'è, forse Sì, sì, sto andando Madonna Inverti da presa, liberati Madonna Picchio Ok, olè Raggiungi, sì, ci sono Ok Altra gente Merda, ok No, non è morto Uh, preso Aspetti, aspetta Dai, vieni Ah, guarda, anche là Ok Ah No, hanno sparato al nostro amico No, riprova dal checkpoint Lenny è morto Porca, l'hanno preso Beh, rifacciamo il checkpoint Dove è che ha salvato Ah beh, ok, ok, da qua Allora, aspetta Oh, madonna Oh, madonna Cioè, vabbè, gli sparo anche al corpo, va Poi Aspetta Preso Preso Ok Ah, è andato a terra Per caricare Dove sono Aspetta Merda Ok Ahia Ce l'ho la vita, sì Preso qualcuno Quindi sai che sono I nostri alleati Ma Sono Basta Va bene Che freghiamo Freghiamo a lui Cioè, frughiamo a lui Ma No, se sto a fregare da tutti Eh Un po' di soldi E' un po' di soldi 3, 2, 1 Alla porta Andiamo Così Non usciremo Eh beh Usa R per prendere la dinamite Da Bill Ok Premi R2 per piazzare la dinamite Ok Accendo la miccia Non gli sparo Ah Via Ok Accendo la mia Ok 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 Come on Just walk on out here We don't wanna kill you My oh my We just wanna rob your boss Get on up there Search that train Prima voi Posso salire anch'io Eh Sali sul treno Aspetta Ok Vai Dov'è il bottino sul treno Aspetta aspetta Sigaro Ok Rologio da tasca di platino Ispeziona lettera Ah Acqua Cos'è Eh Giriamo un attimo Non c'è niente Fatemi leggere Allora lettera di Alcebal Jameson Per Leviticus Conwell Caro Leviticus Grazie per il telegramma E per il suo rinnovato interesse Nella società mineraria Jameson Purtroppo le notizie Che le sono giunte Su cattiva gestione E difficoltà finanziaria Della miniera di Hannesburg Sono fasulle Le consiglio di verificare Le sue fonti Il settore del carbone È molto diverso Da quello proiettorifero Sto leggendo però Resto decisamente Aperto all'idea Di un incontro di affari Al suo comodo Per scambiare idee E studiarci rispettivamente Sulle rispettive aree Di competenza societaria Avete finito Sei inoltre lieto Di ospitarla Ad Hannesburg E offrirle Una visita personale Della miniera Delle relative strutture Non ancora Mi auguro di ricevere Alta sua corrispondenza Corriere dei saluti Darci per il Jameson Vabbè Metti via Metti via Vabbè Guardo bene Qua c'è un quadro Fuga di un armadietto Apri Cos'è Obbligazioni Fuga di un armadietto Sigaro Ah Ah Quelle No Però Io Continuo a guardare Chiudi l'armadietto Fuga nel cassetto Prendi E dai Sigarette Pila di banconote Eh 25 dollari Ok Eh Un attimo Madonna Non è che faccio le missioni da solo Così magari Cioè Non sento la gente Che mi parla Allora Fammi leggere Eletta della Leland Oil Development Company Per le viti D'Oscona Caro Master Conwell Dobbiamo ancora ricevere il pagamento di 2000 dollari Per la fase iniziale Della esplorazione Della riserva indiana Di Wapiti Nell'Abarino Come contenuto Il controllo Del contatto Siglato Da Conwell Che Rosene E Tar E Leland Oil Development Company Data 9 novembre 1898 A recinto dei fondi Procederemo con le fasi 2 e 3 Del progetto E le forniremo Un rapporto dettagliato E le nostre scoperte Entro la fine del mese Tinti saluti Ok Aspetta Ok Adesso La società petrolifera Ah Ha fatto fatto lui Va bene Sto guardando in giro Sto guardando in giro Quando tu arrivi Sto guardando in giro Sto guardando in giro Sto guardando in giro Sto guardando in giro Occupati Delle guardie Mira Minaccia Minacciamoli Ok Sì 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 Sarà vero La locomotiva Per far partire il treno Andiamo Beh un po' Ok Quindi ci sono comunque anche delle scelte Interessanti Poi non so se hanno conseguenze Ma vediamo Fai partire Beh addio eh Spero Alla fine loro lavoravano Insomma Facevano il loro lavoro Quindi Devo dire Alla fine Alla fine Oh for lord's sake Put that book away And go hell Oh Mary Beth So we getting out of this hell hole? We're gonna try We're gonna try Weather seems stable And we just robbed a Leviticus Cornwall train We got money in our pockets The worst is behind us gentlemen So the question is Where now? I know this country a little I told you We should set up camp In Horseshoe Overlook Near Valentine We'll be able to hide out there No problem As long as we keep our noses clean Well then let's go Clean noses And everything else Arthur You're in that one Bring Hosea I know you two like to talk About the good old days And what's gone wrong With old Dutch Shut up then Don't do they help? Shut up and go do they help? The all Tomb of the No, no, no. Lenny, Micah, get over here. Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Okay. So, I'm going to go to the carovane. Okay. Okay.